Sul palco non l'abbiamo raccontato ma ci sono anche due gabbie con degli scheletri di Caparezza e dovremmo essere alle follie preferenziali Caparezza su Radio 2 in diretta da Senigallia, Caterraduno 2011 in esami mi portano plotoni di uomini, di uomini verso postazioni di uomini, di uomini aggressori con botti di uomini, di uomini aggrediscono figli di uomini, di uomini in un circo massimo di uomini, di uomini nell'anno domini di uomini di uomini subiamo il fascino di uomini, di uomini come ninfamali di uomini, di uomini non vengo con te nel deserto, scusami se è diserto ma preferisco preferisco avanzare il tempo, preferisco sparare cazzate preferisco fare storia in una moda, preferisco morire d'amore preferisco caricare la stella, preferisco buttare la rulette preferisco il fuoco di un obiettivo, preferisco che non rimanga vivo i uomini versano il tributo di nostalgie per epoche che mai hanno vissuto la bandiera è il saluto, con noi o stai muto, questo è il terzo millennio benvenuto, chi d'aiuto a Newton, di sacco come cacchio si fa a sopportare i fatti di sta gravità anacronistica la verità che viene a galla, di abissica, misura mi stavalla e seguimi in questo viaggio tra santi e demoni che invece sono solo uomini di uomini tu che sei forte alla morte sopravvivimi io sono debole quindi l'anima mi ami caro paese da belle pretese chiedimi se ti vedo come freddo come enemi ti piace fare la pace ma allora spiegami sti missili che fiscano nell'aria con un termine non vengo con te nel deserto scusami se diserto ma preferisco preferisco mangiare il tempo preferisco sparare le calzate preferisco fare scuola in una moda preferisco morire d'amore preferisco caricare la sveglia preferisco puntare la lunette preferisco un poco di un obiettivo preferisco che con il mangettivo preferisco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E volevo ringraziare tutto lo staff del Carter Raduno. Grazie a tutti. Luigi Astorino, tour manager. Michele Cordisco, a guida del tir. Il service, il GM service. E non è finita qui. Salutiamo Posnerola, le magliette. Salutiamo poi la grande triade lì in fondo. A cominciare dal fonico totale generale della piazza, Antonio Porcelli. Sempre lì in quella postazione. Vestito di verde, alle luci, alleluia. Bumbuletti, bullo. Vestito di giallo dall'altra parte. Machi, il visualizer. Al centro, Jacopo Pesce. Vedete quanti siamo. Ma non è finita qui. Manca ancora un elemento principale e voglio l'applauso più forte per voi, pubblico di stasera. Grazie per aver speso il vostro tempo ad ascoltarmi. Grazie mille. Allora io potrei lanciare dei messaggi ma non lo faccio. Non lo pre-fre-li-sco. Preferisco, 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 preferisco. Preferisco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.